Eccoci in sala ragazzi, è partito il day 2, come vedete 600.200 con l'antea 100 quando siamo arrivati al decimo livello di gara, sul monitor scorre anche il prize pool, veramente un grandissimo primo premio. Diamo anche uno sguardo alla sala, vedete che ancora non si accenna a svuotarsi, sullo sfondo vedete anche il final tv table, quello che sarà il final tv table che nel frattempo è occupato già da uno dei tavoli del torneo che viene già ripreso per il format televisivo che ne scatolerà. Tanti italiani ancora in gara, come sapete benissimo Magic Box che da short ha iniziato subito con un ottimo raddoppio che l'ha riportato circa attorno allo stag medio che si aggira attorno alle 65.000 chip, quindi un inizio che lascia ben sperare per questa giornata, per i colori azzurri. Mi raccomando tutti a fare il tifo sul forum, pokeritaliaweb.org, noi ci diamo appuntamento ai prossimi aggiornamenti dalla sala.